Musica Bentornati al consueto appuntamento con Mare Sicuro, la trasmissione in collaborazione con la Guardia Costiera della Spezia per la sicurezza di bagnante e di portisti. Per quanto riguarda le manifestazioni che si svolgeranno in mare nel weekend segnaliamo. Domenica 4 agosto, dalle ore 15 in poi, nello specchio acqua antistante alla passeggiata Morin del porto della Spezia, si svolgerà la gara remiera denominata 94esimo Paglio del Golfo. Dalle ore 22.30 alle ore 23 si svolgerà il tradizionale spettacolo pirotecnico. Sempre domenica 4 agosto, dalle ore 23 alle ore 23.40, nello specchio acqua antistante Framura si svolgerà uno spettacolo pirotecnico. Per quanto riguarda il bollettino del mare, che si può ascoltare sul canale 68 del VHF, per tutto il weekend è previsto mare calmo o poco mosso, con brezze leggeri dai quadranti meridionali. Ed ora la parola al primo malesciallo, Calise Simone, che risponderà a alcune domande. Sono molti gli amanti del di porto che vorrebbero maggiori informazioni sul conseguimento della patente nautica. Oggi siamo qui con Samuele per rispondere alle sue domande. Ho 22 anni e vorrei acquistare una tante con un motore di 70 cavalli. Posso condurlo liberamente? Prima di poter comandare l'unità, deve conseguire la patente nautica perché è obbligatoria per la navigazione, con natanti e imbarcazione oltre 6 miglia dalla costa. E quando a bordo, si è installato un motore con potenza superiore a 40.8 cavalli o 30 kilowatt, per la condotta delle moto d'acqua e per le unità che trainano chi esercita l'osci nautico. Quali sono i tipi di patente nautica? Le patente nautiche si dividono in tre categorie. Categoria A per il comando di natanti e imbarcazioni da di porta e moto d'acqua. Categoria B per il comando delle navi da di porto e categoria C rilasciata a coloro che sono affetti da specifiche patologie invalidanti, per la direzione nautica di natanti e imbarcazioni da di porto. Infine, in relazione alla distanza dalla costa, le patenti si suddividono in due tipi, entro 12 miglia dalla costa e senza alcun limite. A chi devo rivolgermi per conseguire la patente nautica? La patente nautica per navi da di porto, ossia unità di lunghezza superiore a 24 metri, può essere conseguita esclusivamente presso una capitaneria di porto. Invece per unità pari o inferiori a 24 metri può recarsi presso una capitaneria di porto o un ufficio circondariale marittimo se desidera prendere la patente senza alcun limite dalla costa. Per la navigazione entro le 12 miglia, oltre che nei precedenti uffici, potrà presentare domande anche presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile. Ogni quanto tempo deve essere rinnovata? La patente nautica ha una validità di 10 anni, ma perché ha compiuto il sessantesimo anno di età, deve essere rinnovata ogni 5 anni. Il periodo può essere ulteriormente ridotto per coloro che siano affetti da infermità fisiche o psichiche e minorazioni anatomiche o funzionali. Se avete ulteriori dubbi, non esitate a consultare il nostro sito www.guardiacostiera.it Grazie Simone per i tuoi preziosi consigli. Comunque vi ricordiamo che per ogni necessità è sempre attivo il numero blu 1530, gratuito da telefono fisso e cellulare, oppure il numero unico di emergenza 112. Anche per questa puntata della Guardia Costiera è tutto. Arrivederci alla prossima settimana, sempre con mare sicuro. Grazie a tutti.